Mi chiamo Pietro Comerlo, è la società, la mia società è Asia Nautica, io sono uno dei soci fondatori e attualmente mi occupo insieme al mio socio Alessandro della parte commerciale. Abbiamo poi un altro socio ancora che si occupa della parte di consulenza e divisione per le specifiche per gli occhi e poi abbiamo dei tecnici che si occupano della nostra interazione. Siamo nati nel Donira assieme a una società americana con un prodotto che si chiama il prodotto di frequenza che viene installato su un yacht per permettere ai yacht che stanno in stagione in Europa e in stagione nei Caraibi di potersi attaccare sempre in macchina con una corrente elettrica senza problemi. Poi siamo avuti appunto con la divisione della consulenza che adesso serve tutti i principali cantieri italiani e nel sud della Francia. Ultimamente abbiamo sviluppato un prodotto nostro, un prodotto di entertainment, room automation, servizi di bordo. L'entertainment permette di vedere film, ascoltare musica, vedere le proprie foto, la televisione, di tutto cambiando gli scenari, addirittura cambiando le fragranze nella propria cabina, tutto con un iPod. Un iPod che uno può decidere, come un iPod, può decidere che cosa fare in quel momento e in più noi stiamo permette di supportare quello che noi chiamiamo 4D. In collaborazione con una situazione americana che si chiama D-Box, americana-canadese, che si chiama D-Box, permette di trovare una sensazione nuova, che è quella di vedere un film in 3D con in più il movimento. È una sensazione più diversa, vedere un film in questa maniera è come entrare nell'azione. In più permette anche di fare altri servizi di bordo, tipici di imbarcazioni di grassa taglia, come ordinare il pranzo, ordinare il drink, eccetera, ma fatto in maniera che siano disponibili anche su imbarcazioni di più piccola taglia.